ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale sono qui per realizzare insieme con voi questo fratello di questa orecchini vi presento i materiali che occorrono e poi iniziamo con le tutorial io veramente lo adoro adoro questo orecchino ok vi presento i materiali per realizzare questa orecchini occorrerà rivoli da 10 mm super duo biccono da 4 mm cipollotti da 3 x 2 mm scusate cipollotti 3 x 2 mm obezz poi qui serve savette miuchi bianco o vasi di colore che userete nel vostro lavorazione io in questo caso userò bianco questo è toho perchè non ho i miuchi se non avete miuchi potete utilizzare toho 15.0 e poi miuchi 80 miuchi 11.0 miuchi 15.0 una goccia da 30 mm e naturalmente occorre la base ecco iniziamo con lì tutto ora ok iniziamo con lì tutto ora prima di tutto dovete andare iniziare inserire sul vostro filo 8 super duo e 8 11 0 sul vostro filo e portate a fine giù del vostro fine del filo e andate ripassate tutte le pelline da dietro ok ripassato da dietro e come vedete chiuso la lavorazione al cerchio adesso andremo andremo scusate e andiamo avanti per coprire il nostro nodo inseriamo nel 11 0 esco dalla super duo quindi andate per inserire il vostro nodo dentro al vostro rocca 11 0 quindi tirate bene e poi dopo che avete inserito il nodo della rocca potete tagliare il filo necessario ok ho creato il mio filo filo necessario e come vedete portato in foro nato della super duo a questo punto andremo inserire sul nostro ago il nostro cipollotto da 3 per 2 mm e andremo inserire tra le super duo lavorando sempre in foro nato della super duo praticamente facendo la incassonatura semplice con la super duo che conoscete in quasi tutti e quindi potete andare tranquillamente fallo senza anche passando per sta passaggio quindi ogni spazio andate inserire il vostro cipollotto da 3 per 2 mm ok inserite le mie cipollotti e uscendo dalla prima che abbiamo inserito questo punto andremo e inseriamo un super duo sul nostro ago e questo punto andremo inserire tra le cipollotti quindi ogni spazio della cipollotto verrà inserito un super duo ecco quindi andata anche questo e completate inserire in tutto giro ecco anche questo completato inserite le mie super due come vedete portato in foro nato della prima super duo che ho inserito quindi questo appunto andremo inserire nuovamente un rock a 11 0 e andremo inserire adesso a questi spazi tra le super duo sempre in foro nato quindi anche questo andremo e completiamo ecco quindi andate anche questo a completare ok ho inserito le miele mie rocca questo punto andremo prendere la nostra rivoli da 10 mm andremo applicare al centro della lavorazione quindi applicando al centro inserendo al centro andate iniziare a tirare il vostro filo a questo punto andate e ripassate nella lavorazione ok questo punto abbiamo incassonato il nostro rivoli da 10 mm uscendo dalla super duo in basso andro e porto sopra ma non inserisco nel super duo solo attraverso nella filo ecco questo punto vado e inserisco anche nella cipollotto usando usando un profilo lunga perché meglio scusate lungo ecco uscendo dal cipollotto questo punto andrò ad inserire sul mio ago due super duo e andrò ad inserire nel cipollotto successiva aggiustiamo un po' ok e questo punto uscendo dal cipollotto andrò ad inserire sul mio ago 3 15 0 miyuki e andrò ad inserire in bassoforo della super duo e tira un po' ok così ora uscendo basso fuori del superduo andrò inserire nuovamente 3 15 0 sempre della miuki e andrò inserirmi nel cipollotto e tiro il mio filo e aggiusto ecco questo punto inseriamo nuovamente 2 superduo nostro filo e andremo avanti così finché non abbiamo completato nostro nostro giro quindi uscendo da cipollotto andrò inserire 2 superduo e andrò inserire nella cipollotto successiva ecco quindi adesso di nuovo inserisco 3 15 0 e come detto questo va avanti finché non avete completato il vostro giro e inserisco nel foro basso nella superduo quindi 3 15 0 miuki andrò inserire nel cipollotto ecco quindi andate completata in tutto giro ok completata anche questo passaggi quindi uscendo da scusate per la ecco uscendo dalla cipollotto adesso attraverso nella 2 superduo attraversiamo nella 2 superduo ecco e inserisco nuovamente nella cipollotto ecco ecco quindi attraversato nel superduo per uscire nella cipollotto successiva a questo punto andremo inserire 3 roca 11 0 sul nostro ago e andremo ad inserire nel cipollotto un cipollotto quindi questo punto attraverso nuovamente nella superduo senza inserire niente anche nella cipollotto anche nella cipollotto e inserisco di nuovo nel cipollotto ecco quindi uscendo dal cipollotto inserisco nuovamente 3 roca 11 0 ecco andate e completate anche questo passaggio quindi dovete completare in tutto giro così ecco completato anche questo mio passaggio e come vedete portata soltanto uscire un superduo questo punto io me lo giro per la mia comodità quindi porto in alto foro nella superduo ok uscendo dal superduo inseriamo sul nostro ago un cipollotto e un roca 11 0 e andremo ad inserire il secondo roca della 3 uscendo dalla seconda roca inseriamo al contrario partiamo con la roca e inseriamo un cipollotto questa non mi piace molto ma la cambio quindi inseriamo un roca e un cipollotto e andremo ad inserire in foro in alto della superduo ecco uscendo da fuori in alto della superduo andremo ad inserire sul nostro ago un toho 15 0 un superduo e ancora un altro toho 15 0 ma se avete bio miucchi lo stesso colore che usate come cipollotto va bene anche miucchi quindi e vado a inserirmi nella superduo successiva quindi questo punto inserisco di nuovo un cipollotto e un roca 11 0 e sempre inserisco nella centro la seconda roca della 3 quindi al contrario un roca un cipollotto e vado a portarmi in alto foro della superduo e questo punto di nuovo un toho 15 0 un superduo un toho 15 0 e vado inserimi nella successiva del foro nato della superduo ecco andate e completate anche questo giro e mi raccomando di andare anche a ripassarlo ecco inserite le mie perline anche ripassate come vedete uscendo dalla roca che si trova vicino al nostro cipollotto andiamo inserire su ago un bicono e una roca 11 0 sul nostro ago e quindi andate portate fino giù uia scappato quindi portiamo fino giù a lavorazione giro ecco e quindi rientro nel bicono entro nella roca e esco della cipollotto praticamente dovete entrare faccio vedere un forse meglio saltando la seconda roca come vedete entrando subito nella terza roca e tiro il mio filo così quindi questo appunto andiamo e attraversiamo di nuovo ah no sbagliato uia dicendo fisseria scusate questo appunto uscendo dal cipollotto andremo inserire 4 roca 11 0 sul nostro ago e andiamo inserire la punta della nostra super duo e tiriamo il nostro filo non preoccupate perché quindi uscendo dalla punta inseriamo nuovamente 4 roca 11 0 e ando inserire nel cipollotto e esco soltanto nella roca che si trova vicino al nostro cipollotto e tiro il mio filo ecco questo così tanto verrà ripassato quindi di nuovo inserisco un bicono un roca 11 0 e porto fino giù fino su o giù a nostro elaborazione rientro nel bicono rientro nel bicono e esco della roca e nella cipollotto e tiro il mio filo ecco così quindi questo appunto di nuovo andate inserire 4 roca 11 0 e questa va avanti finché non abbiamo completato il nostro giro quindi uscendo dal cipollotto nuovo inserite 4 roca andate a portare inserire nel foro nato della super duo quindi nuovo 4 roca 11 0 e vado inserirmi nuovamente nel cipollotto e nella prima roca ecco andate e completate questo giro e andate anche ripassare senza entrare nella bicono ok inserite le mie perline e anche ripassate come vedete sono portata ad uscire nella roca che si trova sopra il nostro bicono questo appunto andate inserire 3 roca 11 0 e un hobbit vostro ago andremo ad inserire 1 2 3 nella seconda roca e usciamo con l'ago oda della terza roca usciamo della terza roca uscendo da terza roca andremo ad inserire un 15 0 un 11 0 un 8 0 11 0 e un 15 0 quindi uscendo da terza roca andremo ad inserire un 15 0 un 11 0 un 8 0 un 11 0 un 15 0 e andremo ad inserire 1 2 seconda roca e usciamo dalla terza roca e usciamo dalla terza roca e tiriamo il nostro filo così ora uscendo dalla terza roca andremo ad inserire quando 7 è vicino al cipollotto partite inserire 1 hobbit e 3 roca e 3 roca 11 0 e portata ad inserire il foro alto della 11 0 e tirando il filo così ora uscendo dalla roca 3 roca 3 roca 3 roca 3 roca 11 0 e un hobbit poi è accaduto dall'ago 1 2 3 quindi inseriamo 3 roca un hobbit e come prima inseriamo nella seconda roca e usciamo dalla terza e tiriamo il filo ora inseriamo un 15 0 un 11 0 un 8 0 15 0 15 0 e andiamo inserire sopra a questo superduo inserendo da seconda e uscendo dalla terza roca ok ok questa porto ancora avanti perché poi dobbiamo inserire anche la goccia e quindi adesso inserisco invece 3 roca un hobbit al contrario al contrario 1 hobbit e 3 roca e porto fuori in alto dalla 11 0 1 2 3 1 2 3 quindi inserisco 3 roca un hobbit quindi inserisco nella seconda e uscendo dalla terza ora andremo ad inserire anche la goccia ok per inserire la goccia sempre inserite un 15 11 un 11 un 8 questo appunto va inserito anche la goccia aiutai ah monella che se io scusate la mia imbranatura mamma mia e 3 15 0 ecco porto fino sulla lavorazione adesso faccio vedere che ho inserito anche sbagliato no inserito un 15 0 un 11 0 un 8 0 la mia goccia e 3 15 0 quindi andro e ripasso direttamente nella pelle no pelle nella goccia e esco dalla 8 0 e tiro il mio filo ecco abbiamo inserito anche la goccia e questo appunto dovete soltanto inserire un 11 0 un 15 0 un 15 0 e portare ad inserire nella seconda rocca e uscire della terza ok ok faccio vedere che ho inserito anche la goccia adesso continuiamo ad inserire la verso delle pelline quindi uscendo dalla terza continuiamo di nuovo con un hobbit e 3 rocca 11 0 e porto in alto della 11 0 che si trova sopra il nostro piccone qui fate attenzione per non castrare la filo nella goccia quindi nuovo 3 rocca 11 0 e un 15 0 e sempre nella seconda esco esco della terza rocca 11 0 e tiro il mio filo ecco inseriamo ultimi pelline quindi un 15 0 un 11 0 un 8 0 contrario 11 e 15 e vado inserirmi nella seconda esco della terza rocca ora ultima pelline quindi un tocco 8 0 e 3 rocca 11 0 e porto ad uscire della 11 0 e io ho inserito le mie ultime pelline adesso non rimane altro che voi andate e ripassate tutte le lavorazioni dovete andare e ripassarlo una volta che avete ripassato vostro orecchino anche terminato quindi mi raccomando andare adesso a ripassare nella lavorazioni ecco ho completato il fratello del mio orecchino il titolo poi vedrete il nome vedrete poi nel titolo come vedrete ha nell'inserito il foro nato della obis spero che il tutorial ti ha piaciuto se ti ha piaciuto mi farebbe piacere se mostrate le vostre versioni su facebook e niente spero di vederci prestissimo con una nuova tutora ciao a tutti ciao 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 ciao